Ciao, oggi vi farò vedere come ho realizzato questo modulo, l'ho chiamato modulo argentina, con un cabochon di 30 mm in pasta polimerica, questi sono fatti da me, e ho incastonato con 72 delica di base, io ho incastonato con due colori dopo come vedete, ho usato perline di 10 mm, queste perline schiacciate di 10 mm come diametro con strass, rocaille 11.0 irregolari 8.0 e super 2, abbastanza facile, dovete solo essere attenti al lavoro, iniziamo con il mio cabochon, vi ho detto 72 delica di base, lavoro solo con la delica di mezzo, e metto una 8.0 entro nella prossima delica, un'altra 8.0 entro nella prossima delica, e anche in quell'altra, quindi iniziamo, entro nella prossima delica, dopo che ho messo l'8.0, un'altra 8.0 entro nelle prossime due delica, praticamente devo avere 2.8.0 un spazio libero, 2.8.0 un spazio libero, e faccio così fino alla fine del mio giro. Sono con l'ultima perlina 8.0, entro nelle prossime due delica. piano piano, 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 tiro bene il filo, perché non vuole stare come si deve, non lo so, ok, quindi questo è il mio lavoro, due, una vuota, due, una vuota, entro nella mia 8.0 e aggiungo una super 2, entro nella prossima, poi entro in tutte e due delica. poi un'altra super 2, entro nelle prossime due delica.0, entro nella mia 8.0, 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 entro nella delica poi quindi praticamente fra le due 8 0 metto un super 2 faccio così per tutto il giro arrivati all'ultima super 2 guardate entro nella prossima 8 0 vedete il giro è già fatto è bello anche così vado nelle delica di giù poi entro nella 8 0 e la parte inferiore della super 2 tiro bene il filo e poi entro nella parte superiore praticamente devo andare sulla prossima fila guardate che cosa mi è successo ed è poi metto sul mio ago una perlina schiacciata una di 10 mm una perna schiacciata entro nella prossima super 2 certamente nella parte superiore questo modo schiacciata 10 mm schiacciata entro nella prossima e faccio così per tutto il giro arrivati all'ultima schiacciata 10 mm schiacciata entro nella parte superiore della super 2 entro nella schiacciata e nella perlina di 10 mm piano piano tiro bene il filo tiro bene il filo sistemo tutte le perline guardate come sono mi piace un sacco ok adesso uscendo da questa perlina di 10 mm metto 7 11 0 1 2 3 4 5 6 7 dopo come vi ho detto li uso questi regolari entro nella prossima perlina di 10 mm per smaltire un po' già un sacco 1 2 3 4 5 6 7 entro nella prossima e così faccio così per tutto il giro 7 entro nella prossima 7 entro nella prossima arrivati alle ultime 7 perline di 11 0 entro nella mia perlina di 10 mm guardate davanti profilo e dietro adesso devo rifare il giro quindi altre 7 perline 11 0 entro nella prossima perline di 10 mm entro nella prossima perline di 10 mm e faccio così fino alla fine poi non faccio che arrivare con il filo qui a questo qualche nodino e poi nascondere sotto l'incastonatura modulo finale è questo vedete e qua il modulo per il il foglio perché certamente un fiore è un foglio saranno componenti di una colana come vedete che vi posso dire mi piace un sacco come sono usciti ci vediamo al prossimo video tutorial arrivederci